vi auguro buon natale buone vacanze di fine d'anno a tutti i fans di omo baratto omo baratto è un blog ormai interessante perché ha dei fans che arrivano un po da tutto il mondo dagli stati uniti dalla cina dal nepal di qua di là di su di giù non vi dico quanti ce ne sono poi potete anche vedere alcuni partecipano vivamente altri invece sono quasi assenti sono così sono un numero no dovreste partecipare tutti avete comprato il mio libro vi siete interessati all'uomo baratto quello che ho scritto dovete farlo se non l'avete fatto almeno mille libri li dovrò vendere no ma poi propagandatelo fatelo conoscere adesso ci sarà poi una traduzione in inglese per mandarlo a distribuirlo e negli stati uniti in inghilterra paesi dove c'è molto molto interesse alle origini dell'uomo noi italiani ci accontentiamo di sapere la solita favoletta che ci raccontano di adama e deva di su di giù del peccato originale dobbiamo scontare il peccato poi ci facciamo perdonare allora andiamo tutti in paradiso ci vediamo adesso papa ha detto anche con i nostri animali quindi siamo a posto la favoletta sta bene viene bene noi non pretendiamo di più però non è così la verità su raccontiamoci però uomini di una certa cultura non ce la possiamo più raccontare dobbiamo cercare di indagare chi siamo chi non siamo da dove arriviamo perché ci siamo perché ci siamo evoluti insomma dovrebbe interessare a tutti no vi saluto auguri